vaccinazioni astrazeneca sospese in italia ieri sera annunciato un nuovo blocco nelle marche no alla didattica distanza manifestazione statica davanti al comune di pesaro installazione fibra ottica pesaro presentati i primi numeri del progetto sport perdono vis pano e carpegno prosciutto basket esulta e vince l'ital service una buona serata a tutti i telespettatori di rossini tv il canale 633 del digitale terrestre bentornati a un nuovo appuntamento con l'informazione del nostro telegiornale rossini news subito in apertura parliamo dei vaccini perché dopo il blocco di un secondo lotto annunciato nella serata di ieri dalla regione marche del vaccino astrazeneca poco fa proprio questo pomeriggio l'aifa ha deciso di sospendere la campagna di somministrazione astrazeneca su tutto il territorio nazionale vediamo servizio anche nelle marche a seguito della comunicazione emanata ieri sera dalla regione era stata predisposta la sospensione dell'utilizzo di un secondo lotto del vaccino astrazeneca le dosi del blocco abv 58 11 sarebbero state sostituite con ulteriori dosi di vaccino disponibili la decisione era arrivata in seguito agli eventi che avevano avuto luogo in piemonte dove tra le giornate di sabato e domenica l'ente regionale aveva deciso di sospendere in via del tutto precauzionale la somministrazione dello stesso lotto ritirato anche nelle marche dopo il decesso di un insegnante 58enne residente nella provincia di biella avvenuto senza alcun nesso causale accertato dopo l'inoculazione della dose la sospensione del secondo blocco astrazeneca nelle marche era arrivata dopo gli episodi che nelle scorse giornate si erano registrati nella sede di vaccinazione pesarese allestita al centro sociale monaldi nel quartiere celletta a seguito del ritiro del primo lotto astrazeneca diversi over 80 vista l'assenza non preannunciata delle dosi pfizer e l'utilizzo di astrazeneca per le somministrazioni avevano deciso di annullare la prenotazione rifiutando di ricevere l'inoculazione una volta giunti al monaldi episodi che avevano creato indignazione tra i presenti e anche tra gli accompagnatori degli anziani i quali avevano inoltre rimarcato una mancata comunicazione dell'assenza delle dosi pfizer o moderna nonostante le prenotazioni regolarmente effettuate qualche settimana prima le rinunce dei diversi presenti avevano portato l'organizzazione a contattare persone iscritte ad una lista di riserva che avevano quindi ricevuto le dosi astrazeneca rifiutate dai primi destinatari sulla vicenda erano poi intervenuti anche i sindacati degli anziani spicgl fnp cisl wilp wilpes rubino sottolineando le disfunzioni registrate al centro monaldi nelle ultime settimane comprese gli episodi di lunga attesa rispetto agli orari di prenotazione fissati per gli over 80 nel pomeriggio odierno poi l'agenzia italiana del farmaco ha reso nota la decisione di estendere in via del tutto precauzionale temporanea in attesa di pronunciamenti dell'agenzia europea per i medicinali il divieto di utilizzo del vaccino astrazeneca su tutto il territorio nazionale tale decisione ha spiegato l'agenzia è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri paesi europei l'aifa in coordinamento con ema e con gli altri paesi europei valuterà congiuntamente tutti gli eventi che sono stati segnalati a seguito della vaccinazione infine l'agenzia del farmaco renderà nota tempestivamente ogni ulteriore informazione che dovesse rendersi disponibile incluse le ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto la prima dose in primo piano anche la cronaca e andiamo a urbino dove un minorenne è stato denunciato alla procura dei minori dopo aver rotto una bottiglia di birra in faccia ad un coetaneo al termine di una lite intercorsa tra i due il fatto è avvenuto all'interno del parco della resistenza e a denunciare l'accaduto ai carabinieri sono stati i genitori della vittima entrambi i ragazzi uno di 15 l'altro di 16 anni sono residenti nell'urbinate le ferite sono costate la vittima una prognosi di 20 giorni e diversi tagli all'altezza del sopracciglio della guancia e della palpebra le indagini delle forze dell'ordine saranno incentrate anche sul supermercato che ha venduto la bevanda alcolica ai due minorenni in primo piano anche i controlli per quanto riguarda le misure di contenimento della diffusione da covid-19 sul territorio provinciale nell'ultimo fine settimana infatti sono state intensificate le attività di controllo sull'osservanza delle misure di contrasto della diffusione del virus covid-19 sul territorio provinciale nelle giornate di venerdì sabato e domenica sono state controllate rispettivamente 355 508 e 287 persone per un totale di 1150 individui le violazioni amministrative contestate sono state 10 nella giornata di venerdì 20 nella giornata di sabato e 12 in quella di domenica nelle tre giornate sono state inoltre controllate 386 attività commerciali senza la contestazione di illeciti in città osservati speciali sono stati anche i parchi nonostante le regole imposte e le attività di controllo però si sono registrati alcuni episodi di bivacchi notturni che come vediamo nell'area verde di via rossi hanno portato nella mattinata successiva a scoprire i fiuti e gli avanzi di cibo abbandonati nella notte dagli sconosciuti situazioni che però si sono prontamente risolte grazie a diversi interventi di pulizia altri episodi irregolari sono stati infine registrati anche nell'area della palla di pomodoro dove una dozzina di persone tutte sprovviste dei dispositivi di sicurezza personali si erano dati appuntamento per trovarsi sul posto sono prontamente intervenuti anche gli agenti che dopo aver identificato i presenti hanno proceduto con l'elevazione delle sanzioni e nonostante la pioggia di ieri pomeriggio il comitato priorità alla scuola ha manifestato in forma statica sotto il loggiato del comune di pesaro per dire no alla didattica a distanza vediamo le immagini di questo presidio nel prossimo servizio stop alla didattica a distanza con questo messaggio ieri pomeriggio sotto il loggiato del comune di pesaro si sono ritrovati per dare vita ad una manifestazione statica consentita quindi anche in zona rossa e organizzata dal comitato priorità alla scuola diversi genitori e studenti nelle marche il blocco delle lezioni in presenza è partito dagli istituti superiori con le ordinanze regionali delle scorse settimane mentre con l'ingresso in zona rossa tutte le scuole di ogni ordine grado sono dovute tornare alla formula della didattica a distanza le principali volontà e richieste mosse dai partecipanti della manifestazione tra cui figurava anche qualche insegnante sono rivolte alle istituzioni poiché queste trovino soluzioni per riaprire in sicurezza le scuole e per garantire dunque la fruizione delle lezioni dal vivo in tema di sicurezza è stata rimarcata la necessità di ampliare l'attività di controllo nelle classi sottolineando l'esempio voluto e messo in campo dall'amministrazione comunale pesarese nel proporre per due volte a distanza di circa un mese uno screening che fotografasse lo stato di salute delle scuole indicando i numeri del contagio che si registrano all'interno dei plessi le molteplici difficoltà della didattica a distanza hanno ricordato i presenti si ripercuoteranno ora anche sui più piccoli e sui genitori di questi ultimi costretti a chiedere aiuto anche ai nonni e dunque anche a quella fetta di popolazione più esposta ai rischi del covid tanti i simboli lasciati davanti all'ingresso del comune per veicolare questi messaggi tra cui cartelloni e diverse paie di scarpe per rappresentare gli alunni dimenticati e ora gli aggiornamenti covid per quanto riguarda il territorio regionale come ogni lunedì in calo il numero di nuovi positivi è anche quello dei tamponi testati e il servizio sanità della regione marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2653 tamponi 1251 nel percorso nuove diagnosi di cui 153 nello screening con percorso antigenico e 1402 nel percorso guariti con un rapporto positivi testati pari al 33,2 per cento i positivi nel percorso nuove diagnosi sono 415 di cui più della metà 219 casi sono stati registrati in provincia di ancona mentre 26 è il numero dei nuovi positivi segnalato in provincia di pesaro e urbino 11 invece i decessi notificati ieri sera dal servizio sanità della regione nessuna delle vittime era residente nel territorio pesarese e sono stati presentati questa mattina nel corso di una conferenza stampa i primi dati e risultati dell'accordo tra l'amministrazione comunale di pesaro e open fiber per l'installazione della fibra ottica nei vari quartieri della città vediamo i dettagli in questo servizio una maggiore connessione con la fibra ottica ultraveloce per essere competitivi e combattere le disuguaglianze è l'obiettivo che si è posta all'amministrazione comunale di pesaro che oggi ha presentato i risultati ottenuti da open fiber società di telecomunicazioni incaricata come previsto dalla convenzione siglata nel 2019 di realizzare l'infrastruttura prevista per il territorio i lavori iniziati nel luglio del 2020 hanno permesso di dotare della fibra 8500 unità immobiliari tra case uffici negozi in un momento in cui uno strumento come la connessione rapida di internet risulta importante per lo svolgimento di attività considerate ormai quotidiane come lo smart working o il conseguimento delle lezioni scolastiche nella formula della didattica a distanza il progetto consentirà il collegamento in banda ultralarga di oltre 34.000 unità immobiliari di cui le prime 16.000 saranno attivate entro l'anno l'investimento totalmente a carico della società di telecomunicazioni è di circa 12 milioni di euro e rientra nel piano di cablaggio previsto per 271 città italiane i lavori che per la realizzazione dell'infrastruttura prevedono in parte l'utilizzo di opere e scavi già esistenti sono partiti già in diversi quartieri tra cui quelli di pantano muraglia soria cinque torri santa veneranda e villa san martino a cui seguiranno nei prossimi mesi villa fastigi porto e centro storico anche il covid ha voluto dire e velocizzare tutta la l'area di pesaro è fondamentale dobbiamo non dobbiamo dimenticare la periferia quindi cercheremo di puntare anche a velocizzare la connessione nella periferia come abbiamo visto i nostri figli sono tutti a casa in dad e quindi è fondamentale avere questo strumento non solo ad oggi parliamo di transizione ecologica transizione digitale quindi l'innovazione deve andare in quella direzione ci devono essere gli strumenti per poterlo fare l'estensione sarà anche verso soria muraglia abbiamo visto insomma che cerchiamo di allargare e dare la possibilità a tutti i cittadini di essere connessi ripeto però che è fondamentale spingere verso la periferia quindi monte ciccardo che ad oggi è diventato comune di pesaro e anche la parte del parco san bartolo ed è arrivato per un atleta pesarese un importante titolo e riconoscimento internazionale jordan valdinocci è stato infatti proclamato campione mondiale di kickboxing k1 rules categoria 67 kg a monaco di baviera battendo nell'ultimo match l'avversario turco tedesco di ar essen i complimenti e riconoscimenti sono arrivati da tante voci cittadine tra cui quelle dell'amministrazione comunale e con la conferma in zona rossa anche per la provincia di pesaro e urbino sono annullati i mercati cittadini settimanali del martedì quelli rionali e quelli previsti per la terza domenica del mese fino al 29 marzo a ricordarlo è l'amministrazione comunale che nel rispetto delle normative anti covid 19 sottolinea che in zona rossa possono svolgersi soltanto le attività dirette alla venta di generi alimentari prodotti agricoli e florovivaistici e sono stati numerosi sindaci che hanno raccolto l'invito del presidente della provincia di pesaro urbino giuseppe paolini a partecipare all'incontro in videoconferenza dal titolo prospettive delle infrastrutture e dei servizi nel territorio provinciale organizzato per discutere delle opportunità che si presenteranno anche al territorio pesarese con lo stanziamento del recovery fund e di altri strumenti economici a livello europeo e nazionale obiettivi e prospettive chiare per studiare progetti comuni utili alla ripresa territoriale post covid da queste basi è nato il convegno convocato dalla provincia di pesaro urbino per discutere insieme a diversi sindaci dei comuni e non solo delle opportunità territoriali da cogliere grazie agli strumenti che verranno messi in campo a livello nazionale ed europeo tra cui le fondamentali risorse del recovery fund al centro del dibattito per incrementare il rilancio delle economie locali non solo l'importanza delle prospettive destinate alle infrastrutture ma anche le potenzialità derivanti da altri settori come quelli dei servizi essenziali ho voluto questo incontro anche con alcune associazioni naturalmente non ho potuto invitare tutti ma questo sarà il primo di una serie di incontri che organizzeremo come provincia il fatto è questo con il recovery plan con i con i finanziamenti che arriveranno e arriveranno parecchi soldi noi o siamo tutti uniti come territorio oppure rischiamo di fare un flop nell'acqua cioè dobbiamo essere uniti come territorio tutta la provincia presentare dei progetti credibili che diano risalto e che mettano in primo piano lo sviluppo che noi vogliamo dare al nostro territorio parleremo anche delle cose che sono andate anche nei giornali ultimamente che sarà l'idrico che saranno i rifiuti che saranno poi le strutture scolastiche sia i dirigenti che i sindaci cioè io sogno di avere delle scuole veramente nuove non dei palazzi per quanto belli storici ma che sono oramai superati a dimensione anche a livello di didattica ma avere delle scuole nuove dove ci sia il piacere di andare a scuola poi c'è la viabilità ci sono i ponti ci sono tutta una serie di realtà che debbano essere seguite e migliorate e perché no anche nuove negli anni più recenti insomma parliamo di decenni ormai anche se appunto sono molto più recenti rispetto alle teorie tradizionali si pone molto l'enfasi ad esempio sul ruolo del capitale sociale quindi come un insieme di relazioni che si staranno in un territorio e che facilitano gli scambi di idee appunto gli scambi anche tra imprenditori tra istituzioni e imprese quindi una diciamo un ambiente nel quale è più facile fare impresa ad esempio e per in questa diciamo caratterizzazione del territorio mediante questa nuova dimensione che è appunto quella del capitale sociale un ruolo importante viene svolto anche dalle utilities appunto di queste società che offrono dei servizi di tipo essenziale quale l'energia l'acqua il trattamento dei rifiuti questi tipi di società possono svolgere un ruolo importante per attrarre sia imprese nei territori che anche giovani e domani si terrà una nuova seduta del consiglio regionale in videoconferenza il consigliere del partito democratico andrea biancani ci ha parlato nella prossima intervista della volontà di presentare una nuova interrogazione per chiedere chiarimenti sulla chiusura del reparto di pediatria all'ospedale di pesero vediamo l'intervista che è stata realizzata da daniele sacchi devo dire che ormai questa è la seconda interrogazione che presento in consiglio regionale dove chiedo chiarimenti rispetto al fatto che durante l'emergenza la prima fase dell'emergenza il reparto era stato chiuso per realizzare spazio per la terapia semi intensiva ed intensiva ovviamente io ho sempre pensato che questo fosse fosse una chiusura temporanea invece fino ad oggi non ho avuto una risposta chiara da questo punto di vista quindi ho presento per la seconda volta un'ulteriore interrogazione che dovrebbe andare in aula martedì dove ribadisco il fatto che sia il reparto di pediatria ostetrice ginecologia è importante che venga ripristinato nella città di pedero prima di tutto perché penso che sia l'unica città in italia capoluogo di provincia che non ha questo tipo di reparto all'interno del proprio ospedale dall'altra parte importante dal punto di vista della sicurezza perché attualmente questi reparti sono stati spostati all'interno dell'ospedale di Fano che però non è in grado di rispondere a delle in caso di emergenze a particolari necessità quindi non ha come dire tutta una serie di reparti a fianco che consentono di poter trattare le persone più gravi o le mamme o i bambini e quindi da qui l'importanza di ripristinarlo se questo non è possibile da subito perché ovviamente l'emergenza covid ancora non è terminata io ovviamente chiedo di ripristinarlo una volta terminata l'emergenza covid chiedo che da subito venga riattivato un primo un punto di primo soccorso pediatrico attualmente ricordo che un bambino non può essere come dire visitato nel pronto soccorso di Pesero perché non c'è un pediatra e si è costretti a doversi recare a Fano nel momento in cui a Fano il bambino dovesse risultare particolarmente grave deve essere riportato a Pesero quindi penso che sia una situazione insostenibile che mette anche come dire a rischio in alcuni casi mi auguro che non avvenga in queste in questi mesi ma che potrebbe mettere a rischio anche la sicurezza del 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 bambino stesso altra categoria altre problematiche quelle di diabetologia come è la situazione in tal senso beh in questo senso devo dire che l'azienda Marche Nord ha aperto ormai diversi mesi fa alcuni nuovi reparti alcune nuove stanze a muraglia per far fronte al problema delle persone diabetiche però sono spazi che non sono sicuramente sufficienti ricordo che solo nel comune di Pesero fanno riferimento circa 8 mila persone appunto diabetiche e avevo chiesto di attivare un bando per verificare ulteriori spazi e devo dire che Azure ha attivato proprio qualche settimana fa un bando che è la ricerca di uno spazio di circa 250 300 metri quadri che possa come dire ospitare quindi creare tutte quelle condizioni per poter come dire affrontare quindi sostenere e visitare le persone diabetiche oltre al problema degli spazi quello è un reparto che ha problemi anche dal punto di vista di personale quindi mi riferisco alla carenza dei medici degli infermieri del dietologo dello psicologo e quindi nell'interrogazione sollecito anche la regione ad attivarsi quanto prima ovviamente compatibilmente alle possibilità ma di fare in modo di poter assumere ulteriori persone per riuscire a dare le risposte al meglio le persone da una parte gli spazi è partito il bando ma dall'altra parte anche aumentare quelle che il personale a disposizione e come ogni lunedì in chiusura di questa edizione del nostro telegiornale parliamo della pagina sportiva per raccontarvi i risultati dei match del fine settimana weekend che ha portato in casa di vis pesaro alma juventus fano e carpegna prosciutto basket pesaro delle importanti sconfitte mentre l'ital service ha messo a segno una nuova vittoria che la tiene ferma in cima alla classifica weekend nero per lo sport pesarese vis alma juventus fano e vl hanno incassato sconfitte in casa in trasferta nel fine settimana appena trascorso cominciando col calcio i bianco rossi di mister di donato hanno perso per 3 a 1 contro la san benedettese allo stadio benelli queste le parole dell'allenatore alla fine del match da commentare perché pronti via abbiamo erano sotto di 2 a 0 con due episodi negativi abbiamo avuto la forza di reggire siamo andati abbiamo fatto gol abbiamo avuto altre forse 3 4 palle pulite per far gol eppure la nostra disattenzione su un calcio d'angolo abbiamo subito il terzo gol primo tempo dove forse andavamo a fare 4 5 gol siamo andati sotto di 3 a 1 secondo tempo poi siamo partiti bene dopo il rigore sbagliato siamo andati un po in confusione forse lì ci hanno tagliato le gambe non siamo stati più noi purtroppo ci tenevamo appunto portare a casa questi tre punti che per noi era importante oggi gli episodi li abbiamo portati al nostro sfavore la fortuna che fra tre giorni si rigioca qui non c'è tempo da perdere non possiamo pensare oggi quando crei tutte quelle occasioni pulite purtroppo devi buttare dentro perché poi quando affronti una squadra forte come la san benedettese dove c'è giocatori di esperienza alla minima occasione puoi rischiare di subire gol e così è stato ancora per il calcio è stata una sconfitta pesante anche quella dell'alma juventus fanu che in trasferta contro il legnago ha incassato tre reti dagli avversari il presidente fatto fidani si è detto deluso dalla prestazione e in dovere di chiedere scusa ai tifosi granata anche per l'atteggiamento insicuro mostrato in campo dalla squadra una delle cause che ha regalato gli avversari il primo tempo del match fatto fidani ha poi concluso incitando i ragazzi a rimettersi in sesto per la prossima sfida in programma mercoledì contro l'Arezzo anche per il basket i festeggiamenti sono stati rimandati la carpegna prosciutto basket pesaro infatti torna senza i due punti dalla trasferta di varese terminata 81 a 68 per gli avversari e che segna la seconda sconfitta consecutiva per i biancorossi sicuramente è stato un po' diverso quale cremona dove là siamo stati veramente abbastanza disastrosi però anche oggi in primo quarto abbiamo subito troppi punti anche oggi in primo quarto sempre da un giocatore da un giocatore cosa è stato mia una volta scorsa è stato a scuola questa volta qui e non possiamo concedere 26 punti il primo quarto a qualsiasi squadra ecco quindi da lì sono iniziati un pochino i nostri problemi poi ci siamo un po' aggiustati siamo riandati sotto siamo ritornati in partita però però sì abbiamo fatto abbiamo fatto fatica quello sicuro contro loro sono stati aggressivi 40 minuti tutto campo con pressare prima che a pressare le guardie abbiamo abbiamo fatto fatica in attacco abbiamo scontro la loro pressione non abbiamo giocato diciamo col col ritmo nostro ecco non siamo usciti a giocare con il nostro ritmo non abbiamo fatto buone scelte di tiro compresa le ultime azioni ma anche azioni prima dove eravamo magari rimonta siamo andati lì abbiamo affrettato tiri non è il nostro modo di giocare dobbiamo riprendere a giocare come come sappiamo speriamo corsare pesato ogni prima possibile abbiamo bisogno della della sua presenza sicuramente per per risistemare si risistemare un po di cose unica nota positiva dello sport del fine settimana è quella che arriva dal calcio 5 con la vittoria dell'ital service che ha sbancato per 2 a 1 il parquet della sandro abate a vellino rete decisiva è stata quella di borruto a due minuti dalla fine dell'incontro è la decima vittoria consecutiva in altrettante partite disputate nel girone di ritorno per la squadra di fulvio colini che grazie agli ultimi tre punti conquistati si conferma in vetta la classifica bene questo era davvero l'ultimo servizio per questa edizione del nostro telegiornale vi ricordiamo la prima serata di rossini tv questa sera alle 21 e 15 come tutti lunedì torna puntuale l'appuntamento con il programma palcoscenico marche che questa sera racconterà il monte carpegna quindi questa sera palcoscenico marche alle 21 e 15 su rossini tv a seguire alle 21 e 30 lo speciale che vi racconterà dell'intitolazione del parco di monte labate alla poetessa anna teresa albanesi lo speciale di rossini tv questa sera alle 21 e 30 e poi l'informazione torna puntuale domani mattina come tutti i giorni su rossini tv alle 7 20 in diretta con un nuovo appuntamento della nostra rassegna stampa buongiorno rossini per leggere i principali titoli articoli dei quotidiani locali buongiorno rossini quindi la rassegna stampa di rossini tv domani alle 7 20 in diretta grazie per averci seguito in questa edizione del nostro telegiornale vi auguriamo un buon proseguimento di serata su rossini tv